Jimmy, qua siamo però al pianoforte. Questo è il tuo pianoforte, che si chiama... Come si chiama il pianoforte? Sì, come lo chiami? Rudolf. Rudolf. Ci fai un accordino anche per... Faccio un pezzo mio semplice, che si chiama... Arnoldstros, quasi rosa. Sì, come lo chiami? Sì. 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 Grandissimo grazie. Sì.